E come di consueto, ecco, dopo essere tornato dal mio bellissimo viaggio a Parigi, vi racconterò tutte le cose positive e negative della città, ma soprattutto cosa vedere e cosa magari non vedere. Partiamo subito dalle cose da visitare. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel di sera è un effetto davvero bellissimo. Io, i primi due giorni, mi è capitato solo di vederla di sera e devo dire che fino a quel momento è stata un'esperienza davvero unica. Abbiamo comunque questa struttura imponente che ha questo gioco di luci davvero molto bello. Quando ti avvicini devi metterti comunque così per vederla tutta perché è davvero altissima, parliamo di circa 324 metri, una delle strutture più alte d'Europa. Comunque durante il periodo che fu costruita, in tutto fu costruita in soli tre anni, in tempi davvero brevissimi, ebbe tantissime critiche. Perché ebbe tantissime critiche? Beh, se la vedete di giorno, le critiche che furono fatte all'epoca sono anche giuste perché vederla di giorno è un effetto totalmente diverso, è un pugno nell'occhio. Ti dà un effetto totalmente diverso. Io i primi due giorni, come ho detto, l'ho vista di sera ed era bellissima. Quando l'ho vista di giorno, l'ultimo giorno prima di partire, sono rimasto davvero molto male, devo dire la verità. Però è una struttura che di notte ha il suo perché. È molto affascinante, molto bella, romantica. Quando arrivi comunque, soprattutto, io sono arrivato all'ultimo piano, è una vista di Parigi davvero mozzafiato. Un'esperienza sicuramente che vi consiglio di fare vivamente. Altre cose belle da vedere a Parigi, ovviamente, è Notre Dame de Paris, che è una struttura monumentale, imponente, bellissima. L'arco di trionfo, il Louvre, una struttura molto bella. Anche se lì ho qualcosa da ridire, un museo enorme. Per vederlo ci vuole circa una giornata intera. Non ce la fate in poche ore. Noi abbiamo fatto un percorso dove ci abbiamo impiegato circa tre ore. Abbiamo visto la Gioconda, dove c'era una fila interminabile. Noi siamo stati il fine settimana, quindi immaginate l'afflusso di gente che c'era. Per fortuna ci siamo organizzati prima che abbiamo acquistato tutti i biglietti in anticipo, in modo tale che quando arrivavamo là non dovevamo fare la fila per acquistare i biglietti. Però comunque bisognava aspettare per entrare, perché davvero c'erano milioni e milioni di persone. Abbiamo visto la Gioconda e per vedere la Gioconda c'era una fila immensa, molto lunga. Poi abbiamo fatto il percorso greco-romano, il percorso etrusco, il percorso delle piramidi. Un po' dispersivo. Alcune volte ci siamo persi, abbiamo dovuto chiedere indicazioni. È stata complicata come cosa, però siamo riusciti a vedere quello che ci interessava. In un giorno intero forse, forse, dico forse, si riesce a vedere un po' tutto in generale. Come i prezzi di biglietti di ingresso non sono carissimi. Per la Torre Eiffel noi abbiamo acquistato, tipo direttamente sul sito della Torre Eiffel, abbiamo pagato 18 euro o 20 euro a persona. Se lo acquistavamo, tipo dalle agenzie, pagavamo addirittura il biglietto per salire soprattutto 60-70 euro. Quindi ci sta una percentuale da parte di queste agenzie davvero alto. Lo stesso vale per il Louvre. Abbiamo compiato il biglietto direttamente sul sito e l'abbiamo pagato 15 euro a testa o 20 euro. Un viaggio che per vedere le strutture non è costoso, mentre per gli alberghi sì, un po' costosi, dobbiamo dire la verità. Siamo stati quattro giorni, abbiamo pagato all'incirca, su per giù, 400 euro in due. Quindi neanche tantissimo, compreso di albergo, volo, museo, eccetera, eccetera. Quindi è stato un viaggio abbastanza economico, calcolando la città dove siamo stati. Perché Parigi è molto cara, calcolate che una bottiglia d'acqua potete anche pagarla 9 euro, 8 euro, 6 euro proprio se trovate la trattoria, così. Ritorniamo alle visite. Dopo ho visto il Louvre, un altro posto bellissimo da vedere sono i Giardini Lussemburgo, che è un posto bassissimo, dove trovate all'interno tutta una serie di statue e di fontane che ha fatto costruire, diciamo, durante il periodo della monarchia francese. E trovate anche la Statua della Libertà, che è una copia della Statua della Libertà che si trova in America, solo in dimensioni molto più piccole. Siamo andati a fare il giro per il tour del Senna e devo dire che è stato un po' deludente, ma poi vi spiego il perché quando vi andrò a parlare delle cose negative, secondo il mio punto di vista, di Parigi. Altra cosa importante da andare a vedere assolutamente a Parigi è il Moulin Rouge, ovviamente, bellissimo. Noi siamo andati di giorno. Non c'erano di risti là fuori che facevano la fotografia, vabbè, è caratteristico comunque come cosa, quindi ci sta. La sera non ho avuto il piacere di andarci. E in più ho passato un giorno a Disneyland Paris. Disneyland Paris, quanto è bella Disneyland Paris ragazzi. Dovete andarci assolutamente. Portateci i vostri figli, andateci voi se siete amanti Disney, perché ritornate bambini per un giorno. È qualcosa di fantastico. Sembra che stai in un mondo dei cartoni. È un'esperienza bellissima. C'è gente che addirittura va solo a Disneyland Paris e non va a Parigi e poi vi spiegherò i motivi per cui non andrà. Il biglietto costa un po', costa circa 80-100 euro se non ricordo male. Io l'ho prenotato sempre una settimana prima. E comunque con tutto ciò che l'ho prenotato una settimana prima abbiamo fatto la fila di circa mezz'ora. E poi per ogni gioco, è vero che siamo stati di sabato, ma per ogni gioco ci volevano circa 60-70 minuti all'incirca. Perché la gente era davvero tante, i bambini erano tanti. È uno dei parchi divertimenti più affluenti al mondo. Ne vale davvero la pena. Soldi ben spesi che rifarei se dovessi tornare a Parigi andrei a Disneyland. Un altro posto bello da vedere, dove abbiamo fatto una fila di un'ora e mezza per entrare, perché non avevamo fatto il biglietto in anticipo, dato che non immaginavamo di riuscirci ad andare, è Le Catacombe. Un posto bellissimo, per chi soffre di gastrofobia non lo consiglio, perché comunque si passa in cunicoli molto stretti. Si scende molto di profondità e comunque ci sono tutta una serie di teschi, di ossa, tutte accumulate, che magari chi è sensibile o chi non ce la fa può rimanerci male. Andare a fare una visita assolutamente a una delle cittadine più vicine che si trovano a Parigi, che è Montmartre, che è tipica davvero. Dove trovate anche la Basilica del Sacocore, una basilica bellissima, una chiesa davvero tipica, fatta di una pietra particolare che a contatto con l'acqua si pulisce. È una di quelle pietre secolari che in pratica non assorbe smog, non assorbe sposcizia e ogni volta che viene una pioggia forte la pietra si pulisce. Quindi la chiesa la trovate sempre splendente, bianco perla quasi. Infatti appena siamo arrivati si vede già da lontano questa chiesa con questa pietra che brilla proprio da lontano. È un effetto davvero molto bello. Un altro posto da visitare assolutamente sono i Champs-Élysées, una zona ricchissima e quando camminate per là vi posso garantire che veramente vi sentite dei poveracci. Quando passate per là, soprattutto la sera, e parliamo di sera perché poi andiamo a fare una distinzione tra sera e giorno, quando parlate di sera sono incantevoli, sono delle passeggiate incantevoli, vi innamorate. Ma le cose negative che a me assolutamente non sono piaciute di Parigi sono la Torre Eiffel di giorno come ne abbiamo parlato prima. Ragazzi la Torre Eiffel di giorno è un pugno nell'occhio e fino a qua ci siamo. Ma la cosa ancora più triste è che nei dintorni della Torre Eiffel, cioè nei momenti in cui arrivate nel quartiere per poi andare a piedi fino alla Torre Eiffel, quindi nel momento in cui vi fermate alla metro e dalla metro iniziate a camminare verso la Torre Eiffel, la cosa brutta e la cosa triste è che per circa un chilometro e mezzo tutto intorno alla Torre Eiffel non c'è vita, non c'è niente, ci sono solo bancarelle di neri che vendono tutte statuette di Torre Eiffel simili a questa ma anche più grande, gigante, medio, che si illumina di tutti i tipi e non c'è nulla, non ci stanno ristoranti, non ci stanno negozi importanti, niente di niente, l'ingresso è abbandonato a se stesso, noi per cercare l'ingresso abbiamo dovuto fare il giro due volte di tutta la Torre Eiffel perché non si capiva da dove bisognava entrare, c'erano delle vetrate tutto intorno ma non si capisce bene qual era l'ingresso ed è stato molto deludente sotto questo punto di vista perché parliamo di una struttura che fa all'incirca 7 milioni di visitatori all'anno eppure intorno è morta, totalmente morta. Ci siamo fermati in un ristorante là vicino proprio perché ci morivamo di infame ma anche la qualità del ristorante, che poi tra l'altro era l'unico e si chiamava Yolanda perché voi dovete sapere tra l'altro che ogni 10 metri in Francia, a Parigi, trovate un ristorante italiano, anche se a noi fondamentalmente ci schifano perché un poco è vero ci schifano e questo ristorante Yolanda era di una qualità non eccellente, abbiamo mangiato la fonduta, piatti tipici, abbiamo cercato sempre di mangiare piatti tipici però non è stato così eccellente, abbiamo pagato un botto, abbiamo preso tre piatti, un'acqua e due quavore, abbiamo pagato tipo 90 euro, 95 euro, un prezzo molto esagerato, in quel caso ho pagato una bottiglia d'acqua a 10 euro, vabbè dettagli. Altra nota negativa comunque è che l'ultimo giorno mi è capitato di vedere Parigi sotto il sole e devo dire che Parigi sotto il sole è molto brutta, non ha, perde quell'atmosfera, perde quel ambient, quel fascino di Parigi che comunque per secondo il mio punto di vista deve essere totalmente cupo, va a perdere quel fascino malinconico, un po' come la vediamo anche nei film, nei cartoni, come l'avevamo sempre vista nei film, così è nella realtà. Rattatuglia in realtà non è altro che la verità ragazzi, perché se camminate per Parigi dovete sapere che mentre camminate a fianco a voi ci sono i topini che non hanno paura di voi, ma restano lì e vi guardano passare o addirittura vi camminano anche sui piedi. Questo è quello che ci è successo presso la torre Eiffel ma anche in altre zone, in pratica i topini stavano vicino ai bidoni e quando per esempio tu ti avvicinavi, come di solito dovrebbe accadere, loro scappano, no, in quel caso restano lì, ti guardano, addirittura ti passano, ma a passo lento, non veloce, e se non ti stai attendo magari ti attaccano pure, quindi è anche un pochino sporca sotto quel punto di vista e mi ha molto deluso. Parliamo a livello urbanistico, la città è molto caotica, parliamo di una cittadina che si ha milioni di abitanti, eccetera, eccetera, non quanto Londra ovviamente, stiamo a numeri molto più bassi, eppure è una città molto più caotica di Londra, non puoi camminare per strada. Noi gli ultimi due giorni abbiamo avuto la brillante idea di affittare monopattini, perché c'era la possibilità di affittare dei monopattini elettrici per strada, li trovavi ovunque, li affittavi col cellulare e tu potevi camminare, ti costava anche poco, tipo un euro per attivare i più 15 centesimi al minuto. Infatti non abbiamo fatto l'abbonamento del tram, ma abbiamo preferito camminare con questi monopattini. È stato molto divertente, il problema è che era anche un po' pericoloso. Per quale motivo? Perché purtroppo non c'erano delle piste cicabili fatte bene, molto spesso dovevamo camminare proprio in mezzo alla strada, cosa che in altre città non mi è mai capitato, a parte in Italia ovviamente. ma parliamo che avevamo deciso di andare da Parigi a Montmartre che sono circa una trentina di chilometri e tutto il tragitto abbiamo camminato in mezzo alla strada, molto pericoloso sotto questo punto di vista. Mi ha deluso perché comunque stai in una città europea, nord Europa, capitale d'Europa soprattutto, ti dicono e ti aspetti comunque delle piste ciclabili, ti aspetti che comunque loro optino per l'elettrico eccetera eccetera, ma purtroppo non è stato così. Mio! Questa è un'altra nota negativa di Parigi. Una cosa che invece mi ha sorpreso molto è la gentilezza di alcuni passanti, l'abbiamo ritrovata questo a Montmartre più che a Parigi, di passanti che anche se noi non chiedevamo indicazioni però vedevano che stavamo in uno stato un attimo di confusionale perché cercavamo di capire bene dove andare perché Montmartre comunque è una piccola cittadina e ci stanno dei vicoletti che magari ti permettono di abbreviare il percorso per andare alla chiesa dove dovevamo andare e si fermavano e ci dicevano se sono loro delle indicazioni e ci consigliavano per dove andare. Questa è stata una cosa davvero molto gentile che in altri posti tipo non mi è mai capitato. Ma una cosa che mi ha segnato, almeno sotto un punto di vista se vogliamo definirlo, non so, morale, psicologico, come vogliamo definire è stato un episodio in particolare che mi è capitato nel tram l'ultimo giorno, il penultimo giorno prima di partire, dopo che avevamo fatto circa 27 chilometri a piedi e ormai eravamo stanchi, erano arrivate le 10 di sera, decidiamo di ritornare dall'arco di trionfo verso l'albergo e ci volevano circa una mezz'oretta con la metro. Entriamo in metro e ci sediamo nel vagone, non ci stava nessuno, ci stavo solo io, la mia ragazza e altre 4 persone. Ci sediamo in un posto a 4, io qui, la mia ragazza di qua e di fronte era vuoto. La prima cosa che faccio, dato che avevo le timberla nei piedi, i piedi erano davvero stanchi, tolgo la borsa e l'appoggio sul sediolino di fronte e ci appoggio un piede sopra, ma non steso, attenzione, sul piede, ma leggermente appoggiato con la punta, giusto per rilassare un po' con la gamba e nel frattempo mi guardavo un po' con le mie fotografie, ma in maniera molto disinvolta, senza neanche pensare a quello che facevo, anche perché l'ambiente circostante era comunque, non parlavano di un tram dove tu dici, cazzo, ma quando cazzo è pulito questo cosa allora non mi permetto neanche forse di appoggiarci i piedi, ma stavano di un tram che era molto 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 consumato. Ma non è questo il problema, perché ragazzi è una cosa che non si fa, a prescindere cattiva educazione. Comunque lasciando stare ciò, che cosa succede? Parte il tram e alla fermata successiva entrano 5 persone in divisa che la prima cosa che fanno è prendermi di peso, portarmi fuori dal tram e iniziare a urlarmi addosso e indicarmi tu italiano, italiano, con un accento francis molto forte. Nel frattempo la mia ragazza rimane sconvolta all'interno del tram che non aveva capito niente di quello che era successo e giustamente cerca di prendere la roba nel minor tempo possibile, perché anche il tram poi tra l'altro stava per partire e quando scende poi ci dimentichiamo una cosa sul tram, comunque succede un mezzo macello e iniziano a fare vicino a me tu italiano, italiano e mi indicavano le scarpe. A un certo punto io non ho capito nulla, niente. Uno di loro si era preso addirittura il passaporto, teniva il passaporto nella tasca e gli diceva documenti, documenti, cacciavo il documento e si è preso il passaporto e non me lo aveva dare più indietro. Comunque mi sono sentito per un atto e ho detto ma cazzo ma che tenga una bomba addosso a Gitt, ma che sta vai? Per un attimo ho avuto paura di stare lontano di casa, la prima volta nella mia vita che ho avuto paura di stare lontano da casa, di dire cazzo non sto a casa mia. Cerco di mantenere la calma e a un certo punto dopo circa 10 minuti arriva una collega loro, un sesto, una sesta persona indivisa che viene e inizia a parlarmi in italiano. Al che dice tu sei italiano? Dico sì sono italiano. Beh allora ci stanno un po' di guai, faccio addirittura dei guai. Che cosa ho fatto? No, il problema è che stavi con i piedi sopra al sediolino e ti devono fare una multa. Non è un problema che io debba avere la multa perché magari sia vero non si appoggiano i piedi sul sediolino. Sicuramente hai perfettamente ragione. Ma io penso che i modi siano stati totalmente sbagliati perché non è che voi potete entrare e prendere una persona di peso, portarla fuori e iniziare a urlargli addosso. Soprattutto se questa persona non è francese, è un turista che viene in vacanza, magari è venuto anche a rilassarsi. E voi urlate addosso in questo modo. E lei mi risponde, mi guarda, purtroppo in Francia sono dei periodi un po' difficili, la gente non la facciamo parlare più. Ho detto, ho capito che voi la gente non la fate parlare più, ma voi la gente non la fate neanche venire più. Ho detto, però proprio i modi secondo me sono totalmente sbagliati. Avete un modo totalmente sbagliato di approcciare quelle persone. Dice, guarda, io faccio il mio lavoro, non è che puoi dirmi che cosa devo fare o non devo fare. Val che, giustamente, senza neanche battere il ciclo, perché erano già passati 20 minuti, avevo fame, avevo capito che non era nulla di grave per fortuna, allora dico, guarda, fammi pagare la multa perché altrimenti, comunque, togliamo tutti i mezzi perché devo andare a mangiare. E ho dovuto pagare una multa di ben 60 euro perché ho appoggiato i piedi sul sediolino. Mi sono dovuto prendere una grande paura e un grande spavento. Ripeto, è giusto magari il fatto che una persona debba comportarsi bene, bla bla bla, ma non è che stavo in pubblico, eccetera, eccetera, non voglio trovare scuse neanche, non mi interessa trovare scuse. È solo il modo che è stato totalmente sbagliato. La cosa importante è che è passato e non era nulla di grave, ma sicuramente è un evento che ti segna, è un evento che ti lascia un qualcosa. Cioè, se volendo andrò in un altro posto europeo sarò ancora più attento di come di solito sto. Ma non va a incidere questo episodio sulla mia valutazione di Parigi. Ci ho messo un po' di tempo per fare il video per quale motivo. Perché? Perché Parigi è una città che, quando sono tornato, dovevo cercare di capire che cosa mi aveva lasciato. E dopo due giorni, effettivamente, le cose che mi ha lasciato non erano del tutto positive. Ma anzi, erano un po' negative. Ripeto, non relativo all'episodio che mi è accaduto, ma ben altro relativo al fatto del caos, al fatto che non ci sono pisticicabili, al fatto che è molto sporca, al fatto che c'è troppo traffico, al fatto che non ci sono ristoranti dove mangi bene, al fatto che loro odiano gli italiani, ma ci sono ogni 10 metri un ristorante italiano, un bar italiano, un caffè italiano, una pasticceria italiana, Italia, ovunque, così andata a Parigi. E uno dei posti dove ho trovato più Italia che in altri paesi. La mia ragazza è rimasta male perché ha detto, ma come, non ti è piaciuto il viaggio? Ho detto, no, il viaggio è stato bellissimo, molto emozionante, anche l'episodio di per sé è stato molto emozionante. La cosa che mi è dispiaciuta è vedere queste cose, sentire dire che Parigi è la capitale d'Europa e per me non lo è. Sentire dire che Parigi è la città più romantica al mondo e, ragazzi, vi garantisco che non lo è, perché Amsterdam è molto più romantica di Parigi, 100 volte più romantica, 1000 volte più romantica. Se andate a fare un giro con un battello a Parigi, vi rite solo pacche di muro alte e un poco di edifici. Se andate a fare un giro nel fiume di Amsterdam, là è il romanticismo. C'è definito come volete voi, romanticismo, amore, vi innamorate. Se andate con una persona che non vi ama, se andate a Amsterdam con quella persona vi amerà, perché è bellissima, davvero bella. Per me Amsterdam è molto più romantica di Parigi. Quindi io l'ho definita così. Avete presente quando andate in discoteca e con quelle luci tutto buio, tutto l'astrobo, così? Vedete una ragazza, perché magari è formosa, vestita molto bene, truccata, preparata, diceva come è bello, questo è bello, così, bravo, avete presente? Così è Parigi, perché voi la vedete, la immaginate più che vedete, poi un po' di alcol, quindi la televisione ha fatto l'effetto, tutto questo, così. Poi la vedete di giorno, magari, e non la riconoscete neanche. Parigi è questa. Di notte, bellissima, stupenda, ma di giorno è... da lasciar stare totalmente.